Buongiorno, ci sono anche ingegneri. Io ringrazio ovviamente il CELVA per questa grande possibilità che ci dà per poterci confrontare su degli argomenti che sono importanti. Tutta questa normativa sta a presiedere l'attività di costruzione, nuove costruzioni, ripristino e riutilizzo di un patrimonio preesistente. Noi come professionisti siamo anche coinvolti nel ruolo di trait d'union con la committenza, la committenza che diventa assolutamente fondamentale in questo tipo di aspetto, soprattutto nell'edilizia privata, dove comunque alcune sensibilità, alcune nuove tendenze, alcune nuove tecnologie vengono a volte proprio sollecitate dagli stessi committenti e quindi questa fase la trovo veramente interessante perché ci sia un confronto tra tutti gli attori, i professionisti, gli enti locali intesi come amministratori, come dirigenti, come tecnici comunali. Non dimentichiamo le imprese, sia le imprese di costruzione sia gli artigiani che svolgono un ruolo molto importante in questo settore e poi gli uffici regionali che sono preposti al controllo, alla verifica e alla tutela. Parliamo della tutela, ecco io trovo che la tutela è poi esaggistica, la tutela del bene culturale, per fortuna che esiste. È necessario probabilmente trovare delle modalità con le quali operare che forse consentano dei processi che siano magari un pochino più, non solo veloci, magari consentire delle interpretazioni che siano un pochino più aperte forse in alcuni casi, ma è fondamentale che ci sia questo. Pensiamo alla caratteristica del territorio valdostano, una geomorfologia impegnativa, caratteristica importante e sicuramente molto stimolante per sia l'opera di architettura e soprattutto anche per quella di ingegneria. Io ovviamente come ingegnere sono sensibile a questi aspetti. D'altronde anche come ingegnere mi vengono in mente alcune situazioni che sono entrate oggi nello scenario della normativa. Pensiamo alla sismica. La sismica evidentemente era ora che entrasse come norma in merito alle costruzioni. La tutela del cittadino è sicuramente una delle nostre priorità e pertanto l'abbiamo accolta volentieri. Probabilmente ci sono alcune modalità che forse potrebbero essere magari ripensate e penso soprattutto al riutilizzo del patrimonio esistente. Ad esempio l'ampliamento consentito del piano casa a volte non si sposa bene con i criteri imposti dalle normative antisismiche e questo forse è un problema sul quale riflettere. L'adozione delle normative che riguardano gli impianti di produzione di energia rinnovabile. Ovviamente sono impattanti a volte. Vediamo pannelli fotovoltaici o impianti eolici ma sicuramente io penso che sulle rinnovabili sia necessario premere l'acceleratore perché sarà una delle poche possibilità che avremo come sviluppo. Se non puntiamo sulle rinnovabili dubito che si possa implementare ulteriormente la crescita. Quindi sostanzialmente quello che io penso che dal confronto di questi attori che compongono lo scenario nel mondo delle costruzioni in generale si debba cercare tutti insieme di procedere a una crescita. Una crescita di pari passo anche con la committenza, una crescita che sia soprattutto di tipo culturale. Rifacendoci a un passato importante sicuramente la Valle d'Aosta non solo paesagisticamente ma sotto come beni culturali possiede un patrimonio invidiabile e di conseguenza basandoci su quello che è stata la nostra storia dovremo cercare di proiettare al futuro nuovi modi di costruire, nuove tecnologie, anche nuove tendenze architettoniche facendo sì che le norme, penso ai regolamenti edilizi, a volte possono creare alcune difficoltà soprattutto in merito alla capacità espressiva o creativa di un progettista. Ecco, questo dovrebbe essere il primo step, il primo gradino per poter intraprendere un percorso di non solo semplificazione che è un termine che usano tutti ma sicuramente di interpretazione e di collaborazione per poter arrivare a un'edilizia che sia sempre più di qualità e sempre più sostenibile. Grazie ancora per la possibilità che ci avete offerto e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente dell'Ordine Ingegneri.